Buongiorno a tutti, è un piacere di essere qui a rintrodurre questo convegno perché le finalità che nascono di qui mi trovo totalmente convinto della richiesta e quindi partecipo più che volentieri. Lascio subito spazio agli interventi dei rappresentanti politici e per primo passo la parola all'onorevole Elisabetta Gardini del direttivo di Fratelli d'Italia. Grazie. Sì, buona giornata a tutti. Io mi scuso, sono durante il corso di una riunione proprio del direttivo provinciale. Come ho detto, ho avuto modo di dire al dottor Donzelli quando ci siamo sentiti. Io da padovana devo dire che ho una venerazione per la libertà. Voi sapete una delle più antiche università europee e quindi del mondo è nata proprio qui a Padova. Il motto di questa università è Universa Universis Patavina Libertas che vuol dire tutta intera per tutti la libertà dell'università di Padova, che mi piace ricordare, nacque proprio da un gruppo di studenti e anche di professori che si staccarono dall'università di Bologna dove il comune era diventato troppo pesante, svolgeva sempre di più, come ricorda proprio il sito ancora oggi di Padova. Una pressione sull'università bolognese e tutta la tradizione che ha portato questa università ad essere una delle università libere dove, come recita l'articolo 33 della Costituzione italiana, l'arte e la scienza dov'essere insegnata in modo libero. Tant'è che Galileo Galilei trovò rifugio a Padova e come raccontava sempre il rettore dell'Università di Padova, quando Galileo Galilei preferì la libertà che Padova gli assicurava un'offerta economicamente più vantaggiosa, ahimè, perse la libertà e Padova aveva detto a Galileo Galilei, guarda noi più di questi soldi non te li possiamo dare, però possiamo continuare a garantirti la libertà di insegnamento, ma Galileo Galilei in quel momento commise un errore e sappiamo poi come andò a finire. Ecco, io credo che noi abbiamo bisogno di spazi di libertà perché la scienza come monolite non esiste altrimenti diventa uno scientismo insopportabile, abbiamo bisogno di spazi di confronto. Io poi nella libera Università di Padova ho avuto modo di studiare anche Popper che ho visto che sta proprio anche nei vostri documenti e Popper in qualche modo ci ha proprio spiegato che noi che andiamo alla ricerca della verità la ricerchiamo attraverso l'eliminazione degli errori e quindi noi che aspiriamo alla verità difficilmente raggiungibile non possiamo e perché non possiamo mai essere sicuri di averla trovata, andiamo alla ricerca dei punti deboli delle nostre ipotesi cercando di eliminare i possibili errori. Ecco, io sono stata educata a credere a questo processo, una ricerca della verità, una scienza che procede attraverso il principio di falsificazione e oggi tutto questo nei meccanismi della comunicazione forse soprattutto sembra essersi un po' inceppata e quindi io auspico veramente, lo dico proprio io come Elisabetta che ha sempre creduto in questo, essendo cresciuta in questa città che mi ha dato questa formazione, credo che sia importante creare uno spazio, un spazio che in questo momento non vedo perché sembra quasi consumarsi nei talk televisivi, uno spazio reale dove i vari punti di vista e questo procede cercando i punti deboli per migliorare, una teoria, una teoria, ecco credo che sia necessario, per questo lo supporto, sembra quasi, ma ripeto soprattutto nella comunicazione che mi sembra sia quella che in questo momento sia un po' inceppata, che si pensi che trovare i punti deboli di una teoria sia volerla cancellare, non è così, trovare i punti deboli di una teoria, ce l'ha insegnato proprio Karl Popper, è cercare di migliorare quella teoria e questo è quello che io credo si voglia fare e si debba fare, nessuno vuole cancellare una teoria che parzialmente sta funzionando ma la vuole migliorare e questo spazio io mi auguro che possa essere, come dire, costruito, protetto, supportato, perché mi viene il dubbio che se Galileo Galilei rinascesse di questi tempi forse diventerebbe uno dei tanti cervelli in fuga che piangiamo ogni anno quando il consuntivo è assolutamente negativo rispetto a questi giovani che prepariamo, a cui diamo una laurea e che poi ci salutano in cerca di lidi più accoglienti. Per cui vi auguro buon lavoro, mi scuso ancora, vi rivedrò nello streaming quando avete finito il domenio. Grazie, grazie al dottor Donzelli, saluto il professor Bellavite che è della mia stessa regione e buon lavoro a tutti, davvero. Grazie onorevole, adesso passo la parola all'onorevole Alberto Zoletti del direttivo del Movimento 5 Stelle, grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie molte dell'invito, io sono al momento, partecipo a titolo personale, sono parlamentare del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, ma sono medico e mi sono sempre occupato di rapporti fra ambiente e salute. Una pandemia di questo tipo è stato un fenomeno nuovo, come tutti i fenomeni nuovi va studiato. Sappiamo che c'è una grande produzione scientifica abbondante, quotidiana e continua che deve proseguire, deve essere incentivata anche nella sua qualità, ma appunto anche nella libertà di produzione e obbligo di lettura, obbligo di studio, perché se poi nessuno legge i nuovi studi e aggiornamenti non si va da nessuna parte. È chiaro che in un fenomeno nuovo ci possono essere errori iniziali, perché appunto c'erano fenomeni nuovi di interpretazione, purtroppo è normale che si sbagliano alcune cose, si sbaglia a livello scientifico e poi si sbaglia magari anche a livello politico, perché ci siamo trovati tutti di fronte a qualcosa di davvero grande, davvero importante, drammatico, anche letale in molti casi. Per cui è normale che non tutto fosse stato fatto in maniera ottima all'inizio, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista ambientale, che sanitario. Però adesso abbiamo qualche dato in più ed è giusto valutare, è giusto guardare gli articoli e le pubblicazioni scientifiche senza preclusione di sorta, perché se no rischiamo davvero di rallentare un processo di comprensione e di ottimizzazione di che cos'è la pandemia, di come si cura. Chiudo con un aneddoto, dicendo che nella scorsa vostra esposizione pubblica si è parlato per esempio di vermectina, oggi se in Italia uno volesse procurarsi di vermectina anche con una ricetta medica, non può perché è diventato farmaco di prescrizione ospedaliera. Questo chiaramente stiamo parlando di adeguatezza, di appropriatezza, però credo che il fatto di passare un farmaco, rendere più difficile procurarlo ai pazienti, credo che non sia un segno di adeguatezza e di appropriatezza perché siamo di fronte a qualcosa di complesso e assolutamente sia le nuove cure che in qualche modo l'evidenza la stanno raggiungendo, sia appunto quello di cui parlerete oggi, quello che invece in qualche modo si è visto che può avere dato problemi, deve poter essere affrontato dal punto di vista del medico e del professionista più che magari di linee che a volte sembrano più istituzionali e che scientifiche. Grazie ancora dell'invito, io cerco nei limiti di seguirvi e grazie ancora. Grazie onorevole, ora ho il piacere di far intervenire il senatore Massimiliano Romeo che è il capogruppo della Lega al Senato. Grazie senatore. Grazie a voi, buongiorno, grazie alla Fondazione Alineare Sanità e Salute e un saluto particolare al professor Donzelli, al professor Bellavite e a tutti comunque coloro che sono intervenuti, gli ospiti, i miei colleghi di altri partiti. Molto velocemente dico che mai come in questo momento penso che sia possibile e fondamentale avviare questo confronto scientifico per far sì che vengano individuate le migliori strategie per contrastare la pandemia. Per portare avanti anche degli elementi costruttivi, perché comunque io ho sentito anche nell'ultimo dibattito, nell'ultimo incontro, ero in presenza e ho sentito davvero delle proposte costruttive che possano migliorare, soprattutto sul tema della prevenzione, sul tema delle cure precoci, che è anche un argomento che affronterete ulteriormente nella giornata di oggi, proprio l'intervento nel primo stadio della malattia, cosa possa essere più utile anche come farmaci da utilizzare, quindi molto molto interessante. Sono tutti i contributi che servono, del resto guardate, l'ho detto nel mio intervento a titolo personale in Senato, cos'è almeno potuto esprimere fino in fondo la mia idea, fino adesso questo confronto scientifico non c'è assolutamente stato. Ci sono solo state delle censure, non si è voluto aprire la porta a nessun esperto, a nessun medico, che comunque aveva delle proposte da fare e a mio giudizio la scienza, per poter essere scienza, si deve nutrire di dubbi, di domande, di informazioni e soprattutto non deve essere accentrata, lo dico con un po' di vena probabilmente polemica, nelle mani delle multinazionali. Non deve essere un dogma, perché sinceramente, come ho detto nel mio intervento, lo ripeto, il CTS non può essere visto come il tempio di una nuova religione, è tutto un dogma, e non c'è nessuna possibilità di potersi confrontare, accettare delle critiche, perché solo dal confronto, dalla coesione, possiamo uscirne tutti insieme, soprattutto utilizzando tutte le armi che ci sono a disposizione, i vaccini sono importanti, lo dico da vaccinato e dall'altra parte indubbiamente ci sono anche tante altre armi che probabilmente, diciamo così, di cui si è parlato poco, non si vuole parlare e se è vero che siamo in guerra, lo dico sempre, in guerra e se bisogna vincere una guerra si devono usare tutte le armi che ci sono a disposizione. Quindi io sono assolutamente convinto nella bontà dell'appello che voi volete sottoscrivere e volete firmare e qualora ce ne fosse bisogno io sono assolutamente pronto a sottoscriverlo o ad aiutarvi a fare in modo che questo appello venga ascoltato. Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie, grazie senatore. Infatti la scienza e l'insegnamento sono liberi, dice anche la Costituzione e la scienza si nutre del dubbio. Non è appunto religione, come ha detto bene lei, ma è il dubbio. È sempre mettere in ridiscussione tra pari, tra competenti, quelli che sono gli accertamenti fino a quel momento e così si va avanti, nel dubbio. Quindi grazie e passo la parola all'onorevole Leda Volpi di L'Alternativa Cè. Grazie onorevole. Sì, grazie a voi, grazie agli organizzatori per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui, io sono una parlamentare di Alternativa ma sono soprattutto un medico, quindi mi fa particolarmente piacere, insomma un invito in cui ci sia da richiedere un'apertura mentale, un'apertura al dibattito scientifico. Quello che mi delude, mi terrorizza di questo periodo storico è proprio la censura, come è stato detto prima, che spesso si rivolge nei confronti di chi non necessariamente scredita un'ipotesi, ma avanza magari semplicemente dei dubbi. Il ragionamento critico è alla base del metodo scientifico. Il metodo scientifico non è un dogma, come è stato detto, non è un'ideologia, ma si basa proprio sulla dimostrazione, sull'esperimento, sull'osservazione e poi sulla dimostrazione della verità o della falsità di alcune ipotesi. e come sappiamo, al primo anno di medicina lo studente deve sostenere un esame di statistica perché deve essere in grado poi di leggere gli articoli scientifici, perché non è detto che tutte le conclusioni riportate negli articoli scientifici siano la verità. Anzi, e questo è un bene, perché comunque leggendo gli articoli, ragionando su come sono stati costruiti gli studi, sull'arruolamento dei pazienti, sui metodi, sulle tante infinite variabili ambientali, genetiche che hanno influito sulla conclusione a cui è arrivato lo studio, poi si può arrivare a formularne altri che possono confermare quella conclusione oppure far capire che magari la strada era diversa. Ecco, così funziona la scienza. Non è un salvatore che viene dal cielo dicendo a reti unificate qual è la verità, ma la scienza si basa sul contributo di tanti ricercatori, di tanti medici che studiano in tutto il mondo un determinato aspetto e ognuno magari porta un mattoncino in più. Il mattoncino su un mattoncino arriviamo a capire meglio delle situazioni che sono sicuramente complesse. Sicuramente la pandemia del SARS-CoV-2 ci ha colpiti in maniera inaspettata, però è anche vero che se si apre la porta a ragionamento critico e si permette comunque a tutta la comunità scientifica di collaborare, discutere, anche scontrarsi, ponendo delle idee diverse, ecco questo è il metodo per progredire e fare passi in avanti. Il metodo non è certo quello di chiudere la porta e di dire la verità in tasca ce l'hanno solo pochi. Ecco noi come piccolo gruppo di opposizione abbiamo provato a portare in Parlamento tante proposte, abbiamo portato ad esempio la questione dei test sierologici di tanti cittadini che hanno avuto la malattia da sintomatici e quindi hanno gli anticorpi, però si trovano in questo limbo per cui non viene riconosciuta la loro immunità perché viene sostenuto che al momento non ci sia un cut off del livello anticorpale che permetta di distinguerli tra immuni e non immuni, però questo è un punto ancora aperto su cui non c'è stata fornita poi una risposta, non c'è stata una grossa attivazione anche del nostro ministero nel favorire studi scientifici in questo anno e in questo anno. Diciamo all'analisi della letteratura scientifica e poi un aiuto sulla politica decisionale sanitaria per quanto riguarda la vaccinazione ai minori perché comunque è un argomento molto delicato. Abbiamo proposto di instaurare un modello di sorveglianza attiva sui vaccini, insomma tante proposte che però hanno visto un governo sordo che le ha bocciate tutte ma soprattutto le ha bocciate senza darci una spiegazione, senza argomentare, ecco questo credo sia la cosa più grave. Io credo che sarebbe molto importante se il comitato tecnico scientifico potesse fare un atto di trasparenza e nei verbali rendere pubblico proprio la letteratura scientifica alla base delle loro decisioni. Quindi questo permetterebbe sicuramente di capire meglio intanto sulla base di che cosa vengono prese le decisioni e poi anche aprire la porta a un confronto, a un dibattito con un contraddittorio che non è assolutamente ciò che stiamo vedendo perché oggi da un anno e mezzo stiamo vedendo chiunque opinionisti, giornalisti parlare di argomenti molto difficili, molto tecnici come quelli sanitari oppure un esperto che magari pontifica in televisione. Invece quello che sarebbe assolutamente da promuovere è un dibattito un po' diciamo all'americana con contraddittorio ma basato proprio sull'analisi della letteratura scientifica e sull'analisi dei dati. Ecco questo è quello che manca e che sarebbe assolutamente da richiedere a gran forza e credo che anche elevare il dibattito sanitario a un livello un po' superiore aiuterebbe anche il cittadino comune a capire o perlomeno a sentirsi rassicurato del fatto che lo Stato prenda decisioni coscientemente insomma conoscendo poi qual è la base scientifica della situazione attuale. Quindi sono contenta di essere qua e attendo di sentire tutti gli interventi. grazie onorevole ricambiamo camera e ho il piacere di passare la parola al senatore Mario Gianruzzo di Italia Exit con Paragone. Grazie. Grazie a voi per avermi invitato eh grazie soprattutto per l'iniziativa eh molto molto importante. Riportare al centro del eh dibattito scientifico il metodo scientifico in questo momento è una cosa assolutamente fondamentale ed è quello che è mancato purtroppo è capitata eh in un strutturali limiti strutturali ovviamente presi e questo ha comporto dei danni uno di questi danni è stato proprio il fatto che ehm si è confuso la scienza eh con 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 altro. La scienza come sono ben ricordato da chi mi ha preceduto è nata intorno al dubbio, al metodo scientifico, al confronto dialettico fra varie posizioni e eh e soprattutto al fatto che eh ipotesi scientifiche reggessero al baglio delle critiche. Invece eh purtroppo il sistema eh malato del nostro paese ha fatto sì che si confondesse che si confondesse eh la scienza come una religione scientifiche che non ammetteva eh confronti che non ammetteva eh repliche ma che soprattutto ha immediatamente criminalizzato chi eh cercava semplicemente di mettere in guardia o di proporre soluzioni che non faceva parte eh diciamo di questo eh di questo del giro di quelli che pontificavano che non identificavano peraltro in nei luoghi non opportuni cioè in televisione mostrando tutti poi i limiti di questo di questo racconto che non era scientifico ma era fideistico contraddicendosi nel corso del tempo e questo evidentemente ha disorientato i più attenti li ha molto allarmati unito al fatto che eh si è instillata nelle persone una grande paura. queste due cose insieme hanno fatto un grande danno ai cittadini di questo paese per cui è veramente un'opera meritoria quella che cercate di fare di rimettere al centro del dibattito eh scientifico la scienza come l'abbiamo sempre intesa e cioè come confronto fra varie eh fra varie posizioni che sia libero che non sia eh 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 non sia popolato di pregiudizi ma soprattutto che non criminalizzi e chi ha delle proposte o delle o delle testi che vanno semplicemente eh affrontate e confrontate eh bene andiamo avanti così Italia Exit appoggerà questi commenti eh di confronto che ci vogliono secondo me i cittadini di questo paese eh si sentiranno eh più rassicurati vedendo vedendo veri scienziati veri scienziati confrontarsi su posizioni differenti e con argomentazioni eh che eh ovviamente siano serie fondate basate su un metodo scientifico. grazie ancora a a tutti anche gli intervenuti ottimi gli interventi che ho sentito fino fino adesso. Grazie senatore, grazie del suo intervento e eh prima di cambiare proprio camera completamente e passare eh all'Europarlamento con l'onorevole Mario Rizzo del Partito Comunista mi permetto di aggiungere un altro piccolo tassello a quello che lei ha appena detto cioè nel libero confronto bisogna essere chiari e trasparenti e la prima cosa che dovrebbe essere richiesta e è richiesta in altri paesi in Italia non tanto è che quando un soggetto introduce e porta la sua prospettiva la sua idea deve dichiarare il proprio conflitto di interesse cioè se ha dei potenziali conflitti di interesse che non vuol dire mettere in dubbio che stia mentendo ma deve rendere edotti tutti se la sua posizione può essere più o meno influenzata da alcuni aspetti. qui mi taccia perché non sono io che è assolutamente fondamentale quello che ha detto nel dibattito purtroppo è mancato e questo ha peggiorato le cose perché magari qualcuno in buona fede non ha manifestato eh queste questi potenziali conflitti le persone ovviamente rese conto e in un momento ovviamente di paura come quello di una pandemia ha generato le peggiori ipotesi magari infondate per questo ha ragione la trasparenza è fondamentale purtroppo come è stato già accennato anche dal collega senatore della lega si è confusa la scienza con le società che con la scienza fanno affari di società la grande eh le grandi società farmaceutiche che sono altre cose rispetto la società sono società società rivolte al profitto per carità sono necessarie sono fondamentali sono utile utili ma la funzione della politica è di regolamentare queste società per evitare che il profitto prevalga proprio sulle ragioni della scienza. grazie ancora per il vostro intervento e per queste eh attività veramente meritorie in questo momento. Grazie senatore. Allora passo la parola senza aggiungere altro a al eh all'onorevole Mario Rizzo del Partito Comunista che abbiamo cambiato proprio camera eh nel senso che siamo all'Europa. grazie. Buongiorno ringrazio per questo invito che mi è stato fatto per questo importante evento e certamente confermo di aderire a questo appello dei promotori per una scienza diciamo che non eviti il confronto anche con quelle posizioni scientifiche che sono critiche rispetto a quelle dominanti. stiamo parlando di scienze. Sono convinto che questa sia una delle condizioni proprio per diciamo sviluppare le conoscenze scientifiche che chiaramente non devono essere bloccate, arroccate in paradigmi di difesa quasi come fossero un dogma ecclesiale. sono semmai come dire meravigliato che ormai da un mese di distanza dall'altro evento e dall'altro appello di di esponenti di forze politiche di altri eh non sia ancora successo nulla per arrivare a un confronto per arrivare al confronto richiesto. sono anche dispiaciuto che appunto quando ci eravamo visti sentiti il mese scorso eh da allora non ci siano stati segnali importanti e questo è una cosa incredibile di rilancio vero della sanità pubblica. il PNRR tanto citato vede la voce sanità pubblica all'ultimo posto. 19 miliardi di euro in sei anni eh una miseria eh e anzi segnali pare che vadano da parte di questo governo Draghi nella direzione di una ulteriore privatizzazione eh del nostro servizio sanitario nazionale. eh il mese scorso sono state presentate interessanti opportunità di diciamo di medicina eh di base di medicina di prossimità per eh terapie sicure economiche e con una ragionevole prova di efficacia. eh oggi ho constato che evidentemente anche c'è un altro punto importante che quest'oggi viene presentato per una dei farmaci che vengono usati spesso da parte di tutta la popolazione. forse anche perché sono molto prescritti e forse bisognerebbe vedere verificare con delle prove effettive con delle indagini random per vedere di evitare eh in qualche modo errori o ridimensionamenti dovuti appunto a una situazione non troppo chiara. quindi seguirò con grande interesse questo vostro evento questo vostro tema e bisogna fare una discussione libera senza censure e va certamente come dire evitato che la scienza sia nelle mani eh dei grandi produttori di farmaci perché quando c'è l'interesse privato beh come dire l'interesse collettivo viene a scemare. grazie 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 onorevole e eh come dire noi insistiamo nel riproporre la richiesta del eh confronto tra gli esperti e quindi ho il piacere di introdurre il primo esperto e per la giornata di la giornata di oggi il eh professore la vista che appunto ci parlerà un patologo generale una materia estremamente importante eh io sono veramente contento di questa opportunità di eh comunicare un argomento così tecnico come vedremo molto limitato in un contesto in cui c'è questa novità di una eh interazione di una integrazione tra quelle che che sono le chiamiamo le richieste o le esigenze della popolazione così bene espresse nelle manifestazioni di piazza in tutta Italia con eh l'argomento della eh validità scientifica e eh la possibilità che la scienza sia al servizio veramente della società. finora sembrava quasi che gli scienziati fossero al di sopra no? E dall'alto del loro sapere dicessero cosa si deve fare e invece qui si crea una novità cioè che la gente stessa chiede un tipo di eh di di conoscenza eh che nasce sostanzialmente anche da altre prospettive non quelli che le fanno calare dall'alto ma quelli che vivono tutti i giorni anche eh direi anche fianco a fianco con eh il mondo della medicina e il mondo della scienza. fondazione allineare sanità e salute ci viene molto a questo discorso del conflitto di interesse ed è fondamentale eh il sottoscritto dopo essere eh andato in pensione dall'università ehm vive della della pensione dell'Inps e poi eh svolge eh conferenze e eh scrivo dei libri eh prendo qualche misero diritto d'autore e eh soprattutto recentemente ho iniziato una collaborazione eh di consulenza con una azienda eh che produce eh medicinali medicinali omeopatici e eh integratori alimentari che si chiama Vanda e di Roma non ha nulla a che fare con la big pharma comunque potete stare tranquilli anzi una micro micro pharma. Il mio compito di oggi è quello di eh sollevare dei dubbi come si dice dubbi scientifici eh sulla eh sulla paracetamolo in particolare per aprire la strada al eh la relazione principale del dottor Donzelli il quale eh analizzerà più a fondo quelli che sono i farmaci che sono più o meno indicati per eh la famosa malattia covid eh diciannove. Tutti sanno che c'è stata un'enorme polemica sulla questione della tachipirina e della vigilia attesa e eh quindi io volevo eh approfondire dal punto di vista tecnico per le persone che possono essere anche un po' curiose di sapere come mai c'è questo discorso della nostra eh nei nostri dubbi sulla 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 tachipirina eh parlando appunto di questo di questo medicinale che eh dal punto di vista ehm diciamo del suo nome tecnico eh paracetamolo o eh nei paesi anglosassini chiamato acetaminofene. Il paracetamolo è sicuramente il farmaco più utilizzato per eh curare le le febbre le piccoli disturbi delle vie respiratorie anche dei bambini e ehm è stato molto promosso nel campo della eh della covid perché eh ha un effetto analgesico notevole effetto analgesico e voi sapete che in questa malattia ci sono anche spesso dei dolori e eh ha un un effetto anche antipiretico contro la febbre eh qual è il problema? Il problema è che eh già da eh dunque questo è stato questo è stato promosso dalle autorità sanitarie sin dall'inizio eh eh non in quanto efficace per i covid ma efficace per i sintomi quindi è stato molto utilizzato eh ci sono anche altri aspetti che riguardano la vigilia attesa eh su cui al momento non non ho intenzione di eh di soffermarmi perché se no l'argomento sarebbe troppo ampio invece per quanto riguarda questo famoso eh paracetamolo eh volevo dire che i dubbi sono nati sostanzialmente prima sul piano diciamo tecnico eh pensando a che cosa fa veramente il suo meccanismo d'azione e poi anche sul piano clinico su alcune ricerche che sono state fatte per vedere se eh fa più bene che male sostanzialmente. Qual è il problema eh essenziale? Il problema è che questa ma in questa malattia eh non c'è solo un problema di virus cioè non dobbiamo combattere solo il virus dobbiamo capire cosa fa il virus nella cellula e quali sono i farmaci più adatti in assenza di un eh fondamentale eh ancora eh farmaco che blocca l'infezione dobbiamo pensare anche di sostenere le nostre difese cellulari. Allora il il questo virus dopo che è entrato nella nelle nostre cellule purtroppo eh cerca di distruggerle questo lo sappiamo eh cerca di riprodursi cioè prima cerca di riprodursi e nel riprodursi alla fine le distrugge e eh in questo passaggio c'è un elemento fondamentale che eh il virus disturba una eh una parte della cellula che si chiama il mitocondrio. Il mitocondrio disturbato diciamo così popolarmente dal dal dalla presenza di questi virus anziché fare la eh il suo mestiere cioè di produrre anidride carbonica e acqua produce i radicali dell'ossigeno. Cioè invece che diciamo brevemente invece che fare il l'acqua eh come prodotto finale fa acqua ossigenata. È come se ci fosse una spruzzatina di acqua ossigenata dentro la cellula. Questo si chiama stress ossidativo. Per fortuna le nostre cellule sanno difendersi perché di virus ne hanno visti in vita loro già da milioni di anni quindi sanno difendersi. E come fanno a difendersi? Usano una sostanza che si chiama glutatione. Ok? Questo glutatione che è un una specie di eh complesso di tre tre aminoacidi eh di cui una eh eh allo zolfo eh riesce a eh captare questi eh radicali dell'ossigeno eh tramite degli enzimi si elimina l'acqua ossigenata. Quindi la cellula si difende in questo modo. Detto questo bisogna dire che oimè purtroppo c'è un problema con questo paracetamolo proprio su sta cosa qua. Cioè il paracetamolo che cosa fa? Eh fa il suo mestiere analgesico eh antipiretico e lo fa e lo sa fare anche bene. Eh fra l'altro eh è curioso che eh il suo effetto analgesico cioè eh toglie i dolori eh funziona eh lavorando sulle sui sui cosiddetti endocannabinoidi. Cioè noi noi abbiamo dei sistemi di eh anestesia interna diciamo o di analgesia basati su proprio su questi famosi cannabinoidi che le nostre cellule sanno produrre. Allora il paracetamolo impedisce che questi cannabinoidi vengano consumati, ricaptati e quindi funziona. Però nello stesso tempo come succede per tanti farmaci viene metabolizzato per essere eliminato dal corpo soprattutto dal fegato. Ecco che il nostro fegato quindi cerca di eliminare il paracetamolo infatti dura quattro, cinque, sei ore massimo nel nostro corpo e eliminando produce una sostanza che si chiama eh qualcosa tipo naptochinone e questo chinone è tossico. Perché è tossico? È tossico perché eh mentre il paracetamolo viene eliminato dal glutatione cioè si lega eh il glutatione e anche l'acqua ossigenata. Questo chinone lega le proteine cioè si attacca le proteine soprattutto quelle che hanno lo zolfo e queste povere proteine così non funzionano più quando ci hanno attaccato il chinone. Oimè non funzionando le proteine della cellula in particolare del fegato quindi si induce una tossicità. Non tutti sanno che il paracetamolo oimè è uno dei farmaci che hanno eh che causano eh ma parecchi problemi di tossicità. In Europa nell'anno scorso due da duemila eh dal maggio duemilaventi al maggio duemilaventuno sono morte duecentosettanta persone per eccesso di paracetamolo. Alcuni di questi ma una minoranza per eh suicidio e molti invece per sovradosaggio perché l'effetto tossico comincia dopo i quattro grammi al giorno per una persona adulta. Per un bambino eh si parla di novanta milligrammi ogni chilo di di peso corporeo. Quindi un bambino di dieci di dieci chili eh già meno di un grammo di di paracetamolo potrebbe creare dei problemi. Ecco quindi che stiamo parlando di una medicina che uno magari prende eh dice ho la febbre lo prendo ma prendo un grammo sì non passa la febbre. Ne prendo di più perché tutta la gente pensa che se prendo più medicina eh eh è di libera vendita. Non ne prende di più magari mi farà meglio. Quindi non è impossibile arrivare a quattro grammi al giorno. E questo già arriviamo arriviamo a un certo grado di tossicità. Le cose si complicano se noi pensiamo che il fegato è anche colpito dallo stesso virus. Non è che il virus vada solo nel polmone. In molti soggetti va anche in giro. Ma soprattutto poi ci sono anche altri meccanismi che alterano per esempio l'intestino. Durante la malattia c'è ci sono spesso infezioni intestinali. Eh ci sono sostanze che si chiamano citochine. Tutta una storia che riguarda il sistema generale. E quindi il fegato anche nella in questa malattia soffre spesso. Hanno fatto delle misure dei enzimi epatici. Le famose glutamine eh transaminasi. Queste famose che si misurano per vedere se il fegato è danneggiato. E nel 60% dei malati di covid le hanno trovate alterate. Quindi c'è una sofferenza del fegato. Ecco questo qua voglio farvi vedere. Tanto per farvi vedere questo questo benedetto chinone acetilbenzo chinone. Questo napki è un prodotto di ehm degradazione o di smaltimento di del paracetamolo. Ecco sto chinone cosa fa? Va eh va direttamente sui mitocondri che sono queste eh quelle dove si arriva alla freccia piccola eh questa eh danneggia mitocondri. I mitocondri che producono quelle c'è scritto disfunzione. Producono queste sostanze lì con la stella gialla sarebbe superossido. Acco ossigenato radicale idrossile col ferro fanno questo eh stress ossidativo. E inoltre in alto a destra vedete anche un leucocita. Io ho passato quasi tutta la vita in laboratorio a studiare anche questi famosi leucociti che quando eh attaccano i virus eh e cercano di distruggerli a loro stessi producono acqua ossigenata e quindi un altro tipo di stress ossidativo che viene da fuori. Anche questo può eh rappresentare un danno alla cellula no? E quindi ci troviamo in una situazione di stress ossidativo e peggiorato dal eh eh dall'assunzione di questo medicinale. Gli altri gli altri tipi di antinfiammatori hanno altre vie di metabolismo e non hanno questo difetto. Eh che quello che io dico sia vero è anche confermato dal fatto che le intossicazioni dal paracetamolo cioè se uno diciamo ne prende troppo ah fra l'altro dimenticavo di dire il eh quando uno è intossicato dal paracetamolo non è che se ne accorge subito. Eh i sintomi sono nausea, sono inappetenza, sono debolezza, robe di questo genere. Quindi è ancora peggio. Non è che uno sente subito vomito, cioè vomita e dopo eh oppure gli viene non so qualche sintomo forte. Sono i sintomi delle sofferenze epatiche sono piuttosto blandi. Ecco quindi che eh persona arriva in ospedale, gli fanno delle analisi, scoprono che gli chiedono avreso il paracetamolo, sì quanto è tanto e eh gli danno che cosa? L'antidoto si chiama acetilcisteina o lo stesso glutatione si può dare come antidoto. E cos'è questa acetilcisteina? È il precursore proprio del glutatione. Cioè l'antidoto specifico della intossicazione del paracetamolo è una sostanza che aumenta nelle cellule il glutatione. Quindi ehm che dire ehm importante saperlo questo. E posso anche dire che probabilmente se uno prendesse insieme paracetamolo e l'acetilcisteina probabilmente potrebbe avere meno rischio di effetti avversi. E questa acetilcisteina è stata studiata anch'essa eh non studi randomizzati così sicuri però ci sono molti che la stanno proponendo proprio anche per sostenere le difese immunitarie durante la malattia. E non è questo l'argomento di oggi però volevo soltanto accennare a questa importante eh possibilità. Quindi andiamo sull'ultima che riassumiamo. Allora i punti chiavi. Il paracetamolo è molto utilizzato quindi i punti chiave per eh l'automedicazione ma il profilo di sicurezza è eh è incerto messo in questione eh si parlava prima della scienza è molto brava a eh sollevare i dubbi. Il virus e le reazioni infiammatorie provocano stress ossidativo ma normalmente il glutatione protegge la cellula. Anche i metaboliti tossici del paracetamolo sono eliminati utilizzando il glutatione. A questo punto quindi c'è un consumo di glutatione provocato dal paracetamolo. Più quello che abbiamo detto prima dello stress ossidativo può peggiorare lo stato della cellula. Infine diciamo che sappiamo che i studi ci sono già degli studi retrospettivi. Retrospettivi vuol dire che non sono fatti contro il placebo però sono comunque delle indicazioni importanti. Indicano che il consumo di paracetamolo è associato ad un maggiore rischio di danni epatici in pazienti col covid. I pazienti col covid che hanno preso il paracetamolo in generale hanno più danni epatici di quelli che non l'hanno preso. Quindi questo induce un forte sospetto. Non è detto che sia stato il paracetamolo però è un sospetto che va verificato. Infine quindi in base ai meccanismi biochimici e alle evidenze cliniche il paracetamolo non appare affatto come il farmaco di scelta per il trattamento dei pazienti con covid e nella fase iniziale. Spero di essere stato chiaro, eventualmente dopo ci sarà un po' di discussione se c'è tempo. Grazie. Grazie professore. Ed era appunto ciò di cui ci stava parlando. il confronto e la revisione critica delle affermazioni precedenti che devono essere rivalidate, confermate, smentite, proposte altre tesi, portare avanti altri percorsi, confronto critico e così via. Così è sempre proseguita e è sempre cresciuta la scienza che non è un dogma. Quindi a questo punto passo la parola al nostro megacoordinatore, il dottor Alberto Donzelli. Grazie. Grazie. Nel frattempo si sono rianimate le animazioni, vediamo un po' se riescono a tenere. Allora oggi questo nostro incontro è all'interno di una serie di cinque proposte strategiche e operative che facciamo di contrasto alla pandemia da Covid. E oggi si parla, come avete sentito, di farmaci che sarebbe meglio evitare, a nostro avviso, ma documentiamo l'affermazione. Io faccio, come sempre, prima una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Io sono stato direttore del servizio Educazione alla Propriatezza e Evidence Based Medicine della ex ASL di Milano. Quindi ripropongo questa slide. Perché la ripropongo? Perché credo e invitiamo a esigere che tutti facciano altrettanto quando vanno a fare un'esposizione al pubblico dicano se hanno o no dei conflitti di interesse, delle relazioni finanziarie che possono indubbiamente un po' diminuire la credibilità di qualcosa che può essere detto. Noi riteniamo come fondazione allineare sanità e salute di avere allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale e della salute della comunità dei cittadini e verificateci in base alle nostre produzioni se è rispondente questa dichiarazione. Ecco, questa è la slide dell'AIFA che ha aggiornato in ottobre di quest'anno le indicazioni. Niente da dire sulle terapie tardive, dove c'è una letteratura più abbondante e solida. Come terapie precoci vedete che non si dice nulla se non paracetamolo e i FANS. Sui FANS dei farmaci antinfiammatori non ci pronunciamo, attendiamo dei trial randomizzati, qualcosa sul paracetamolo c'è e non è a favore. E quindi chiediamo che sia riconsiderata questa indicazione. È chiaro che non c'è scritto che bisogna prenderlo. Però si dice che possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori. Se al medico e al cittadino non si danno anche altre indicazioni, abbiamo visto la volta scorsa che ci sono delle possibilità che nel frattempo sono state esplorate con degli studi randomizzati validi. Se non si danno altre indicazioni è chiaro che ci si aggrappa questa e in effetti la grande maggioranza di chi sviluppa una febbre da malattia respiratoria che sia covid o no assume sistematicamente il paracetamolo. Per i corticosteroidi niente da dire su quello che c'è nelle linee guida AIFA, ma fanno capire questi messaggi che non è raccomandato assumerli subito perché la loro importante azione antinfiammatoria potrebbe ostacolare la risposta immunitaria e le difese dell'organismo. Quindi l'AIFA consiglia di assumerli quando comincia una desaturazione. Forse c'è anche la possibilità di considerarli in soggetti con alto stato infiammatorio di base, però di fatto l'indicazione principe è questa e fa capire anche il razionale di non andare a ostacolare delle difese dell'organismo nella prima fase che è di sette giorni circa, che è la fase virenica in cui viene riconosciuto che prevale l'azione del virus. Allora l'altra volta avevo proiettato questa slide in cui si dice che c'erano un ventaglio di cure disponibili per la Covid anche a domicilio che non devono essere assunte di propria iniziativa ma sempre di intesa con il medico curante se lui è d'accordo, erano stati scelti e inseriti dei dieci principi attivi con questi criteri di massima. Avere efficacia molto promettente in base a studi di alta validità randomizzati e controllati, favorevoli, con degli studi osservazionali coerenti con questi studi di rango più alto e anche dove le prove non siano definitive, possibilità di prenderli in considerazione se ci sono insieme altre caratteristiche, cioè che siano sicuri, che siano biologicamente plausibili, c'è un meccanismo d'azione coerente in base a quello che si sa, che siano economici, accessibili e che non abbiano mega sponsor commerciali e ricercatori con relazioni finanziarie con questi sponsor. Andando a confrontare il paracetamolo con questi requisiti che avevamo posto, vediamo che c'è quello dell'accessibilità indubbiamente, vedremo che mica tanto quello dell'economicità, anche se singolarmente costa poco, però essendo il farmaco più prescritto di gran lunga in Italia e probabilmente in gran parte se non in tutto il mondo, il volume d'affari che lo sostiene è enorme e che purtroppo non ha non ha le prove di sicurezza che vorremmo, non ha la plausibilità biologica per quanto ha spiegato bene il professor Bellavite e ha grandi conflitti di interesse, questi COI da parte di chi lo promuove. Allora è uscito sul Corriere della Sera qualche settimana fa un opuscolo febbre, cause, rimedi e falsi miti che dice più o meno, comincia a dire le cose che vi diremo oggi, forse con meno incisività di quanto avevamo fatto 30 anni fa con un opuscoletto che è quello che vedete quando ero ancora coordinatore sanitario della USL quarta di Milano e che già allora diceva che non era assolutamente il caso nelle prime fasi di una malattia, di un'infezione, riempirsi di farmaci che abbassino la febbre, che contrastano con delle difese dell'organismo. Allora quando è stata fatta un'intervista al professor Palù che presiede l'AIFA, lui ha avuto modo di dire nel contesto dell'intervista quando gli si chiedeva la tachipirina che il nome commerciale quattro volte più costoso del equivalente paracetamolo è la stessa cosa solo che costa di più, lui ha detto no, la tachipirina è del tutto inutile per non dire dannosa, se lo dice il presidente dell'AIFA nel mese di febbraio, possiamo dirlo anche noi in novembre, sperando che da adesso, nelle prossime settimane, ci sia un provvedimento che la rimodula questa linea guida in considerazione di quello che andiamo ulteriormente a ribadire. La febbre, questa è una lettera che avevamo scritto a Quotidiano Sanità quando le pubblicava, che spiegava che la febbre è un meccanismo difensivo, è uno dei più efficaci, che ci ha salvato nel corso dell'evoluzione, sono 3 milioni di anni che le infezioni, non abbiamo gli antibiotici, non abbiamo antivirali, ma abbiamo la febbre e l'infiammazione che nelle prime fasi supportano le nostre difese innate e ci danno modo di superare la gran parte delle infezioni, per cui andarla a contrastare subito è assolutamente controproducente. Tenete solo conto che un meccanismo che nel corso, ho detto 3 milioni di anni, ma pensando agli ominidi, ai nostri antenati, ma se andiamo a vedere quelli che sono gli antenati dei pesci, dovremmo risalire molto tempo prima. I pesci ossei hanno la febbre, gli anfibi, i rettili, gli uccelli, i mammiferi e gli esseri umani. Ci sarà un motivo se l'evoluzione ha mantenuto un meccanismo di questo genere per tutto questo tempo e il motivo è evidentemente che ha un grande valore per la sopravvivenza delle specie che quindi va rispettato nei limiti del possibile con qualche eccezione che sarà al clinico valutare in casi molto particolari, ma di regola la febbre è un'efficace prima risorsa, in particolare nelle fasi iniziali, nelle infezioni lieve e moderate. Questo è l'AIFA che lo dice. L'AIFA nel mostrare questa slide importantissima fa vedere che la classica patologia da Covid-19 si sviluppa in tre stadi. Nello stadio 1 c'è la fase viremica e bisognerebbe cercare di aiutare l'organismo con le sue difese, anzitutto e eventualmente con delle sostanze che le abbiamo viste il 23 di ottobre, tante che possono essere impiegate con utilità nella prima fase per combattere la viremia e dare un supporto con vari meccanismi che sono stati anche testati in trial randomizzati. Nella prima fase e nella fase nello stadio 2A è l'AIFA stessa dire che l'obiettivo principale è quello di contrastare la viremia e quindi solo quando comincia una forte infiammazione o quando la si deve prevenire ma si è ormai all'ottava giornata diciamo e il soggetto non risolve può essere ragionevole darci dentro con dei farmaci più potenti nei confronti dell'infiammazione. Se no si verifica un po' questa situazione, ammettiamo che un passante, casualmente un medico, vede un soggetto che si sta agitando parecchio, sofferente, è illuminato dai riflettori, non vede che ci sono dei teppisti che lo stanno prendendo a pugni e calci ma sono in ombra e quindi non si capisce, si vede che questo poveretto si agita perché sta parando dei colpi e cercando di restituirne e sembra sofferente, allora cosa fa il benintenzionato samaritano? Gli prescrive dei farmaci che contrastano questa sofferenza, vede che suda, vede che ha la febbre, cerchiamo di mandargliela giù, è come se gli mettesse una camicia di forza che gli impedisce di reagire all'aggressione, quindi all'inizio questo non è una cosa da fare, bisogna capire cosa c'è nell'ombra che sta agendo e determina queste reazioni, addirittura hanno fatto dei modelli di simulazione sulla base di studi importanti per vedere se in una epidemia influenzale si sopprimesse sistematicamente la febbre a tutti, hanno simulato che tra il non sopprimere e sopprimerla ci sarebbe un 5% di mortalità in più sopprimendola in maniera sistematica, quindi non è una buona idea, questo tutto sommato già nel 1975 c'era stato evidenziato in un primo trial, in questo caso l'antinfiammatorio di raspirina e si vedeva che rispetto al gruppo di controllo che prendeva placebo c'era un aumento di emissioni virali da parte del soggetto in tutte le giornate di osservazione e quindi la signora dice ma se si sa da 46 anni perché non ce lo dicono abbastanza adesso e quindi adesso si ferma a mia conoscenza al 2016 quando un grandissimo trialist oltre che metanalista che è Colling, Benjamin Colling che ha lavorato a Hong Kong ha fatto vedere dei risultati di uno studio randomizzato in cui ha confrontato due gruppi di 40 persone circa, un gruppo a cui veniva dato paracetamolo in caso di febbre e l'altro a cui veniva dato un placebo e quello che usava il paracetamolo ha avuto la febbre per quasi due giorni in più, ha avuto dei problemi, quindi il paracetamolo è un antipiretico che contrasta le difese e contrasta la logica irrazionale nel affrontare una patologia in questo caso respiratoria e reinfluenza e quindi la signora anziana con la scopa mima la risposta a quella pubblicità che forse ricorderete quando le due amiche una dice funziona in fretta questa tachipirina, me l'ha data il farmacista, se la beve e adesso cinema e alitando sotto l'ombrello l'una vicino all'altra si avviano verso il contagio sicuro anche dell'amica. Questo è un grande trialist inglese che si chiama Paul Little, ha fatto due grandi, studi ma molto grandi sulle malattie respiratorie e il modo migliore che credeva anche lui fosse di utilizzare o il paracetamolo o l'ibuprofene o le cure correnti in cui si dava ancora paracetamolo ma in maniera meno sistematica e che cosa ha trovato? Ha trovato che i risultati erano peggiori, molto peggiori con ibuprofene, però un antinfiammatoio più potente, però non erano benigni neanche con paracetamolo che aveva meno effetti avversi complessivi però ne aveva e ha avuto anche una significatività borderline nell'allungare la situazione in cui aveva sintomi abbastanza gravi o peggio, quindi un terzo di giornata in più di protrarsi dei sintomi che su un trial con 3.000 partecipanti ha il suo peso, quindi è una differenza che arriva alla significatività statistica borderline. Ci sono stati anche altri trial, mi cito un altro di Little, quello più recente ancora di Jeffries del 2016, tutti vanno nella stessa direzione, anche se la differenza non è eclatante, ma le malattie non erano gravi, erano delle banali sindrome influenzali, però c'è una tendenza a aumentare la diffusione del virus e a non risolvere prima i sintomi, semmai allungare un po', anche se all'inizio danno nei primi giorni un pochino di sollievo. Ha detto Bellavite che non è così sicuro, come si ritiene, questa è una rassegna sistematica di tutte le indagini di livello immediatamente inferiore a quello dei trial che ce ne sono pochi, pochissimi, li ho citati, però i studi di corte osservazionali mostrano che ci sono dei problemi anche quando si esagera con la dose, anche in termini di mortalità ve lo faccio vedere, questa è l'ipertensione, cioè con le dosi e la frequenza mensile di utilizzo del paracetamolo che uno pensa è innocuo, quindi lo prendo, ho un po' di mal di testa, ma sì, a qualsiasi banale condizione che non richiederebbe assolutamente un intervento farmacologico, lo piglia e vedete che l'ipertensione aumenta in maniera proporzionale piuttosto che i problemi cardiaci, piuttosto che i problemi gastrointestinali perché si ritiene che si innocuo fa meno male allo stomaco di quanto non facciano gli antinfiammatori non steroidei, però anche lui provoca dei problemi che nelle grandi indagini poi vengono fuori anche con delle differenze significative come vedete in relazione al dosaggio e alla frequenza d'uso. Cosa dice il Ministero della Salute? Manda una circolare, rinnova l'invito che nella prima fase di attesa e sintomatici come paracetamolo in caso di febbre e dolori e di nuovo uno se li prende. Ecco, poi quando si va a vedere il foglietto illustrativo dice che ci sono dei vincoli, cioè dice per l'adulto fermarsi a 3 grammi al giorno come massimo e per il bambino in questo caso che arrivi fino ai 40 chili si può arrivare fino a 2 grammi al giorno al massimo, se si può contrastare la febbre, con meno usiamone meno visto che così non è un elisir. E poi vediamo sempre nella circolare, qui con animazioni era più bello, però le indicazioni che si danno consigliabili in caso di necessità, questa è firmata dal Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, caso di necessità sarebbe quando la febbre supera i 38,5, c'è molto da discutere perché i virologi ai tempi lontani in cui studiavo medicina mi insegnavano che a 39 gradi nessun virus per quanto virulento riesce ancora a replicarsi, quindi ci sarà un motivo perché la febbre sale a 39, anche a 39,5, però 38,5 si inizia e poi di nuovo si inizia a prendere buttandola sotto i piedi o si inizia a prendere per evitare che vada a 41, forse è questo però tenerla a 39 può essere una buona politica sapendo come agisce nei confronti dei virus e se uno ritiene di tollerarla, poi la libertà una volta che uno è consapevole fa quello che ritiene. Bene, si vede che un bambino di 40 kg se prende le indicazioni che stanno nella circolare del Ministero, la prende ogni 6 ore, neanche ogni 5 e al dosaggio massimo del range a 15 mg per chilo, prende 2,4, cioè supera del 20% la dose massima che dovrebbe raggiungere. Se un adulto di 70 kg arriva a 4200 quindi supera anche i 4 grammi, se è una persona in forte sovrappeso, obesa, che pesi 100 kg, 6 grammi e quindi il doppio della dose massima raccomandata. Quindi è importante che se non è stato fatto finora però l'appello è, i consulenti del Ministro facciano presente questa cosa, va riformulata quella circolare e va andata apertamente, cioè delle indicazioni agli italiani dicendo regolatevi in modo un po' diverso da quello che forse avete capito. Allarme overdose, ecco qui, fatali, anche dosi di poco superiori al dovuto, era scritto su quotidiano sanità, poi uno va a vedere la data, il 23 novembre 2011, l'ho scelto perché sono passati dieci anni, giusti giusti, quindi è ora che adesso si intervenga e si faccia la cosa giusta. Bellavite ha già detto per il fegato si trova tanta patologia epatica nei soggetti che vengono ricoverati con la Covid, ma non è che abbia un tropismo epatico così chiaro e non è apparentemente giustificata questa patologia epatica da una loro storia clinica, quindi sono state avanzate delle ipotesi, magari gli antivirali che sono epatotossici tipo l'opinavir, ritonavir che però non si usano praticamente più, magari il rendesivir, ma molto più probabilmente, dico io, l'acetaminofene che è il modo con cui gli americani connotano il paracetamolo, lo chiamano così. Quindi è possibile che uno se lo provochi inavvertitamente, al di là delle intenzioni, contrastando la febbre e prendendo delle dosi elevate di questo farmaco, che fa anche altri problemi, cioè addirittura le donne che se lo prendono in gravidanza in eccesso, qualcosa, se uno sta proprio male, ha bisogno, cioè una piccola occasione, ma è il farmaco più utilizzato in gravidanza perché è considerato altamente sicuro e si è visto che è correlato con per esempio la sindrome da iperattività, cioè la DHD. Questo è stato dimostrato in maniera più convincente anche andando a guardare il liquido amniotico, che è più importante come marker di quanto la donna non riferisca sulla base del suo ricordo. Lì può sbagliare, mentre guardando le concentrazioni nel liquido amniotico si stabilisce una gradazione e si vede che quando la frequenza d'uso è elevata c'è un aumento addirittura di quattro volte della sindrome di iperattività e disattenzione infantile. Per cui se la gente è informata può pensare se è proprio indispensabile prendere quella pillola o può pensarci un'altra volta. Come mai, questa l'ha proiettata anche Bellavite, non l'avete vista né nelle mie né nelle sue ampie, c'è una storia di errori, di fallimenti, di decisioni false, il paracetamolo. Come mai questa storia non ci ha ancora insegnato ad avere un atteggiamento più prudente? Forse c'è da domandarsi, perché forse questa è la classifica nel 2020 dei 20 farmaci più venduti in Italia e vedete che tachipirina figura quattro volte, tachipirina o tachifludec, dove c'è il marrone invece sono farmaci antinfiammatori non steroidei, quindi la fanno da padroni in tutta la classifica dei 20 farmaci più venduti e magari almeno si consumasse soprattutto l'equivalente. Vedete che c'è una differenza di quattro volte e mezzo di prezzo tra la tachipirina e la stessa cosa, il paracetamolo, sotto forma di equivalente. Sono tutte risorse che vengono stornate da altri usi in sanità che potrebbero essere più appropriati, se proprio non lo deve usare, prendere l'equivalente ovviamente. Allora, questo è uno dei possibili motivi per una scarsa incisività dei pediatri, nel dire che va utilizzato in modo diverso, perché nei congressi sono effettivamente presenti in forze gli accerchiati e i produttori di paracetamolo che finanziano l'attività delle società scientifiche. Questo non dico che faccia pronunciare delle cose opposte al vero, però uno magari si sente un po' più condizionato se gran parte dell'attività è finanziata in questo modo. Vi avevo detto l'altra volta il confronto tra indometacina e paracetamolo in un trial ancora in preprint, però il vantaggio è che almeno un trial randomizzato o controllato, il confronto, ve lo dico subito, era impietoso, perché indometacina batteva in tutti i confronti il paracetamolo, il tempo per smettere di aver febbre, il numero di giorni con tosse, il dolore muscolare, la desaturazione che non avveniva con indometacina data in terza giornata, mentre col paracetamolo un quinto dei pazienti si è avuto bisogno di ossigeno. Quindi se dovessimo guardare a questo, mettendo insieme tutto, non ci sarebbe proprio storia. L'unica cosa è che si può dire non so quanto siano solo i benefici dell'indometacina, che è accreditata anche di un'azione antivirale, oppure i danni che fa il paracetamolo con cui è stata confrontata. Quindi grati al nostro medico di famiglia che ci ha spiegato l'importanza di rispettare la febbre, questa è la regola, lasciando alla competenza del medico e la sua autonomia di indicare eventuali o parziali eccezioni a questa regola generale. E cerchiamo di ricordare che non sempre la pubblicità omette delle informazioni totalmente fuorvianti, guardate in questo caso, ha preso le feral gan, non so se fosse la bambina o la mamma, ma ve lo ricordate, nelle pubblicità televisive, e poi si fa nel selfie che sta bene. E però, messe così, chi non era infetta prima si infetta dopo di malattie respiratorie, evidentemente. Quindi toglie i sintomi ma rende le persone potenzialmente più contagiosi. Dopodiché io sono un uomo di scienza, per cui se c'è un trial che dimostra che il paracetamolo, contrariamente a quello che appare nelle altre malattie virali, nel caso della Covid fa bene, io prendo atto, però lo voglio vedere il trial, e se qualcuno mi dice, ma se questo è un virus ingegnerizzato e cambia tutto rispetto alle normali infezioni respiratorie, magari anche, ma anche in questo caso va dimostrato non solo che è ingegnerizzato, ma anche che si comporta in maniera diversa da tutti gli altri virus. A quel punto io prendo atto. Per il momento teniamo la nostra posizione. Rapidamente, le ultime due condizioni di cui volevo parlare non sono condizioni in cui un interviene quando ha la Covid, ma che magari ha in corso o incidentalmente utilizza certi farmaci come gli inibitori della pompa protonica per proteggere lo stomaco perché prende gli antinfiammatori per qualche giorno. Allora, sono farmaci associati con una Covid più grave e purtroppo contro il bruciore vengono pubblicizzati come se fosse una panacea mentre non si va a guardare che la persona in questione mangia male e è obesa. E condizioni che poi, essendo una donna, se prendesse anche gli ormoni sarebbero una miscela esplosiva, obesità e estroprogestinici per quanto riguarda il reflusso e per quanto riguarda il problema della necessità di contrastare il bruciore di stomaco. Allora, sono dei farmaci molto pubblicizzati anche da banco, quindi uno se li prende anche senza informare il medico che potrebbe dargli un supporto diverso e però sono associati a tutta una serie di danni a una serie di organi che qui vedete. Quindi anche con la Covid sono stati in una indagine iniziale statunitense associati con un aumento di rischio e anche con un effetto dose. qui vedete un'interessante rivista che abbiamo in Italia, InfoFarma fatta dall'azienda, dall'ATS di Verona e vedete che gli inibitori della pompa protonica PPI invertito, ma sono sempre loro sono associati con un aumento significativo dove c'è il colore rosso anche di quasi tre volte del rischio di positività in questo caso alla Covid. C'è anche la base biologica perché se impediscono all'acidità di fare una parte del lavoro e di far fuori i microbi e ne vanno di più nell'intestino e l'intestino può essere una sede di ingresso anche per questo virus, come si sa. Vedete che con anti-H2 che hanno un po' la stessa funzione anche se un po' meno potenti questo effetto non si vede vedete qua una revisione sistematica in cui si vede un aumento di effetti avversi da Covid del 60% abbastanza coerente tra gli studi qui vedete ancora un'altra revisione di lì che mostra che c'è un aumento più o meno dello stesso ordine di grandezza per gli effetti gravi anche se non significativo per l'allungamento dei ricoveri questa è una pubblicazione recente giapponese che fa un'altra revisione sistematica e rileva più o meno un aumento dello stesso ordine di grandezza anche se per onestà ho riportato un studio ancora più recente che pur rilevando un aumento di mortalità del 33% però mostra che gli studi più validi di qualità migliore all'interno dei trial non lo mostrano per cui dice potrebbe essere effetto di confondimento ok però il principio di precauzione sapendo che fanno tanti danni sono associati con tanti danni a tantissimi organi apparati il principio di precauzione dice ma se non sono veramente indispensabili facciamone a meno sia per la Covid sia per tanti altri buoni motivi e se li sto già prendendo le pillole di educazione sanitaria che produce la nostra fondazione danno insieme a tante altre pubblicazioni indicazioni su come attuare una deprescrizione e fare a meno di farmaci che si stanno prendendo magari da tempo per finire l'accanimento contro il colesterolo allora poi le slide ve le do l'accanimento contro il colesterolo come se fosse un veleno dall'esterno invece ha una sua funzione pure lui queste sono le ultime linee guide europee che hanno la mano un po' pesante perché dicono più basso è meglio è al punto che la strategia chiave è ridurre ancora di più i livelli di colesterolo rispetto alle precedenti linee guida e l'importante è continuare a prendere le statine aggiungere CZ-Timibe e anche i costosissimi PCSK9 se non si arriva al target quindi non si cura più la persona ma si cura il target che bisogna arrivare? basta il gioco è mettere il target talmente basso che uno non ci arriva se non prende questi farmaci e ve ne do la dimostrazione la dimostrazione allora per il rischio molto alto dicono bisogna scendere sotto 55 di colesterolo LDL o a meno del 50% rispetto al basale qualsiasi sia l'inferiore tra questi due per quelli a rischio alto di considerare una riduzione sotto il 70 e al di sotto del 50% di quello che ha e sottolinea Bygant che quell'E è importante fa la differenza non O, no E cioè se è più basso il meno del 50% bisogna arrivare sotto a meno del 50% allora la mia situazione è questa qua per avere i dati freschi mi sono misurato una settimana fa ho 95 di colesterolo LDL data la mia età di quasi 73 anni dovrei essere preoccupato che è un po' basso e adesso vi farò vedere perché e invece loro cosa mi dicono? io non ho fattori di rischio ho 120 di pressione sistolica massima mai avuto diabete mai fumato sono in peso forma faccio un po' di moto però ho due peccati ineludibili cioè ho appunto l'età che vi ho detto e sono in sesso maschile per cui mi trovo qui cioè ho il 7% di rischio di mortalità cardiovascolare entro gli 83 anni allora io dico vorrete dare il diritto a uno di 83 anni di avere il 7% di possibilità di morire di cause cardiovascolari anche perché non vorrei morire per forza di tumore o di qualcosa può darsi che preferisca anche però no che cosa devo fare? devo andare sotto il 70 mg per 100 cc di colesterolo quindi dovrei prendere le statine perché mangio già bene faccio le cose giuste non mi basta se non prendo una statina abbastanza potente ma quel E nicidiale mi deve portare al di sotto di 48 o di 47 e mezzo e lì ci arrivo solo se ci aggiungo anche le zetimib alla massima dosi di statino magari prendo il PCSK9 a 5.000 euro all'anno ma qual è il prezzo che si paga a fare questo? anzitutto sulle malattie infettive vedete un prezzo è anche un forte maggior rischio di infezione questa è una cosa che non sa nessuno però quando finalmente Nordesgard ha pubblicato lì nel titolo parla dell'HDL che dà meno problemi ma l'HDL una slide è sfuggita e compare che il nadir cioè il punto più basso delle infezioni nei soggetti che hanno il colesterolo e l'HDL è 154 e quelli che ne hanno di meno hanno molte più infezioni e c'è anche poi vedrete dalle slide delle basi biologiche che spiegano come può avvenire questo effetto quindi 154 non dico per forza tutti così si fa un po' di bilanciamento però qui c'è una delle spiegazioni che è stata avanzata questi allora uno dice ma peggiora la mortalità totale se io mi proteggo di più dalle infezioni stando ai minimi no fortunatamente no questi sono dei grossi personaggi trialist e metanalisti che sono contrari alla teoria del colesterolo come un veleno da combattere pur che sia e hanno pubblicato tanto mettendo in discussione e mostrando che più alto è negli anziani e soprattutto nei grandi anziani il colesterolo LDL più alta ha lo stato delle conoscenze e la longevità quindi attenzione ad essere troppo aggressivi questo Nordesgard dopo che per tre anni ho sollecitato ma i dati sulla mortalità totale non li pubblica mai pubblica solo che nei danesi lui ha fatto un lavoro enorme con una corte contemporanea di danesi gigantesca e continuava a pubblicare che fa bene abbassare il colesterolo fa bene al cuore abbassare alle linee guida fa arrivare prima al target ma la mortalità totale lui mi rispondeva sempre non l'ho ancora valutata alla fine ho scritto pure alla rivista che pubblicava i suoi articoli dicendo guardate un po' questa persona ha anche tanti conflitti di interesse con tutti i produttori di queste sostanze e non risponde quando gli dice ma la mortalità totale possibile che non lo sappia alla fine l'ha pubblicato ecco l'ha pubblicato e cosa vedete qua vedete una cosa clamorosa cioè che per i soggetti che non sono in trattamento con i polipemizzanti il nadir della mortalità totale è a 136 135 di colesterolo LDL il colesterolo cattivo quindi altro che arrivare a 48 come vorrebbero far fare a me per quelli che sono in trattamento ipocolesterolemizzante 101 quindi ci si può accontentare non c'è bisogno di accanirsi perché qual è il questo è l'infarto è vero l'infarto cresce se il colesterolo LDL è alto ma è l'unica cosa che ha un'associazione così diretta ma è inverso per la morte totale allora questa è l'ultima slide allora dottore mi manca poco mi dica la verità tranquillo non è infarto ah grazie dottore adesso muoio sereno forse non è così che ragiona la persona informata ok vi ringrazio grazie grazie dottor Dozzelli anche su questo come sempre il dibattito la revisione critica dovrebbe essere la linea guida per portare avanti quello che è l'approccio corretto di cui non sappiamo dove si va a finire quale dovrebbe essere il punto a cui si giunge ma il metodo dovrebbe essere rigorosamente questo quindi se ci sono delle domande da parte di qualcuno i nostri brillanti i datori la parola a un intervento da remoto mi sentite? il professor Faiese grazie buongiorno mi sentite? volevo esprimere le mie personali congratulazioni ai relatori che hanno parlato era tanto tempo che non mi capitava di assistere a una forma di congresso diciamo seppur da remoto e trovare le argomentazioni estremamente interessanti supportate da dati quindi non più opinioni come vengono snoccionate ultimamente da tutte quante le parti e posso anche dirvi di aver imparato qualcosa che per me è una ragione di essere contento perché la crescita di un medico o di un ricercatore in realtà non deve mai terminare volevo permettermi di aggiungere anche un piccolo dettaglio che riguarda la mia di professione che è quella di endocrinologo che tra l'altro il colesterolo così tanto demonizzato è la base di tutti quanti gli ormoni steroidei che sono il testesterone l'estradiolo il cortisolo e via dicendo che hanno tutti quanti delle funzioni estremamente importanti e vitali quindi un abbassamento totale del colesterolo se non c'è il mattoncino base con cui creare gli ormoni crea un ulteriore diciamo livello di complicanze grazie 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 professore per il suo contributo qualche altro intervento domande prego venga così rinquadriamo meglio anche se è molto noto volevo solo fare una domanda riguardo al fatto quando il ministero ha fatto ricorso il consiglio di stato per bloccare la richiesta delle terapie domiciliari punto org appunto di cancellare questo protocollo paracetamolo vigile attesa il consiglio di stato lo ha confermato invece ma è rimasto questa cosa perché si è persa non si è più saputo contemporaneamente vedo che il consiglio di stato ha fatto un'altra sentenza dove è entrato nei dettagli di questioni medico-scientifiche mi domando come sia possibile che un organismo giurisdizionale entri in questioni scientifiche che non conosce è evidente che dopo la sentenza del consiglio di stato il ministero a metà aprile del 2021 ha rilasciato un'altra dichiarazione in cui ha leggermente cambiato invece che il paracetamolo ha aggiunto anche gli antinfiammatori non steroidei però lascia ancora tutto il resto scritto addirittura dice che praticamente fino a tre giorni si può aspettare anche senza fare niente questa vigile attesa è stata praticamente confermata con misurarsi l'ossigeno e attendere tempi migliori veramente io non so esattamente come funziona il sistema del consiglio di stato ma ho avuto già una pessima esperienza quando ci fu tutta la questione della Lorenzin eccetera dove evidentemente anche lì è intervenuto sempre a sostenere l'opinione dello Stato a favore delle vaccinazioni obbligatorie e non so che si serviranno di qualche consulente che gira nelle segrete stanze del ministero è ovvio che gli scrive le veline gli scrive la parte tecnica gliela scrivono questi personaggi di cui alcuni possiamo anche immaginare perché sono 4-5 sono sempre quelli che girano alla fine intanto intanto compaiono la televisione anche questo è quello che penso io perché è ovvio che deve avere dei consulenti tecnici speriamo che questi consulenti abbiano ascoltato quello che è stato detto oggi almeno il minimo perché non so come diversamente da questo possano comportarsi lasciando queste linee guida intoccate dopo quello che è successo oggi con addirittura avremo il sostegno dei portuali non so se non cambia qualcosa stavolta ecco non so qui vedo gente che aspetta sono non c'è molto da dire le sentenze si ricevono si rispettano alcune sono comprensibili altri sono meno comprensibili ma questo è quello che accade vieni una precisazione in realtà è vero che il consiglio di stato io sono Rosanna Chifari di Ippocrate.org quindi a favore naturalmente delle terapie domiciliari la cui efficacia è ampiamente comprovata anche dalla letteratura scientifica internazionale detto ciò il consiglio di stato ha in maniera inappropriata restituito credibilità alla vigile attesa e alla tachipirina ma non ha escluso che il medico possa somministrare altro agendo in scienza e coscienza quindi questo è un messaggio da dare importante per questo c'è stato anche un'importantissima sentenza della corte costituzionale che ha un rango leggermente superiore che ha sentenziato sulla vecchia legge sulla fecondazione assistita che neanche la legge può entrare nel merito delle scelte del medico nei riguardi del suo paziente del suo giudizio clinico ne diventa pieno responsabile ma nessuno può interferire nella scelta del medico infatti la norma era che la legge prevedeva che a seguito la stessa una cosa urgentissima chi ha la Chevrolet Suburban bianca dovrebbe spostarla immediatamente perché sono grossi problemi Chevrolet bianca la norma prevedeva un numero massimo di embrioni che potevano essere prelevati e congelati il che metteva a rischio determinate situazioni di donne più in età avanzata e quindi la corte costituzionale con quella famosa sentenza dichiarata incostituzionale la norma perché nessuno può frapporsi tra il medico e il suo giudizio clinico nei confronti del paziente quindi il medico ha sempre piena libertà di giudizio responsabile nei confronti delle sue scelte nei riguardi del paziente e anche dal punto di vista deontologico il medico è tenuto a giustificare correttamente dal punto di vista scientifico le proprie scelte terapeutiche che però sono insindacabili o meglio sarebbero insindacabili di giudizio di giudizio di giudizio di giudizio di giudizio di giudizio